mister è stata una partita dove avete trovato tante difficoltà ma poi alla fine il gioiello dalla panchina si alza e tira delle bombe assurde alla fine si e lo sappiamo che era una battaglia perché un campo stretto è una squadra tignosa conosce bene ho visto la classifica una squadra che non segna tanto ma non prende tanti gol quindi era un ostacolo importante io ero fiducioso perché stiamo lavorando bene stiamo crescendo e sono molto felice molto per le ragazze soprattutto anche per noi tre punti per la salvezza tre punti importantissimi speriamo di continuare sabato veniamo dalla vittoria di settimana scorsa quindi adesso è il momento di schiacciare sull'acceleratore l'obiettivo come abbiamo detto prima della gara è la salvezza però alla fine se i risultati sono questi forse meglio il gioco però bisogna costruire qualcosa in più assolutamente ma se arriviamo ad avere qualche punto in più a essere più tranquilli magari il girone di ritorno ci divertiamo un po' di più va bene grazie mille in bocca al lupo grazie mille